E' una variante al PRG schizofrenica, quella che l'amministrazione vorrebbe far passare in Consiglio Comunale di Giulianova, dove per dirne una, terreni prima edificabili e per i quali da anni i proprietari hanno pagato lici come tali, non lo saranno più, mentre altri avranno indici improvvisamente generosi. Si è fatta la scelta dei tempi cadenzati, riunioni continue per esaminare tutte le osservazioni e mentre c'è chi spera nella SUP, c'è chi, come il cittadino governante, in Consiglio Comunale vuole il confronto, 23 osservazioni opportune nel buon senso e non per dire no a priori, ma per salvaguardare e valorizzare davvero il territorio e le risorse ambientali ed urbanistiche di Giulianova. E queste osservazioni hanno a che fare appunto con aspetti del paesaggio, con aspetti di insegnamenti urbani fatti male, con un aspetto di consumo di territorio eccessivo, si consumano un milione di metri quadri su 27 chilometri quadrati, solamente per piccoli aggiustamenti sono stati definiti. In realtà si faranno costruire oltre 2.000 alloggi rispetto ai 3.000 che già sono potenzialmente costruibili in questo momento col piano vigente. E poi ci sono anche altri aspetti che hanno a che fare con una tendenza all'assecondamento alla speculazione edilizia. Ora tutto quanto questo è emerso, nonostante la coartazione dei tempi, noi abbiamo partecipato finora a 250 osservazioni, solamente a 23 osservazioni perché abbiamo deciso politicamente di fare una protesta. Dove non siamo preparati, siccome sì e no devono essere motivati, ci assentiamo dal Consiglio perché non abbiamo potuto studiare le carte che sono state date solamente un mese fa. E quindi però solamente in 23 su 250 abbiamo fatto venire fuori delle cose calamorose in termini propri di assecondamento della speculazione edilizia e se non c'eravamo noi questi aspetti non venivano fuori. Tra l'altro il Consiglio complesso e il Sindico tutto sommato stanno tornando indietro perché si sono accorti di questa cosa che non poteva andare. E poi abbiamo detto anche dei sì, perché noi non siamo i signor no, per quanto riguarda la soluzione di alcuni problemi importanti annosi e che anche su quella strada hanno dovuto seguire tutti quanti i consiglieri di maggioranza e di opposizione perché sembrava una soluzione ragionevole e quindi di una buona urbanistica concreta anche.